L'amante di Aruba L'amante che plai in blanco Fondesse di un pilar più grande di nostra economia Però per un'isla Cosa o sin turismo L'amante sempre è importante Come fuente di alimento L'arubiano di oggi Come meno piscato antes Però anche per papi di hopi piscato Anche con alcuni solo Cosa c'è anche come un ufficio L'aruba c'è due popolo Conoci per la piscatona Norte e Savaneta E la piscatona di Savaneta Cosa c'è più conosci per la piscatolina Prometo la piscatolina La piscatona è la piscata Per la piscatona La piscata è la piscata E la piscata è la piscata Per la piscata in piccata Per la piscata di sardino La piscata è la piscata La piscata è la piscata Il santo largo e post grande Na Savaneta Per la piscata è la piscata Una volta che dice di di come non piscata And전za è la piscata Per la piscata è la piscata Per la piscata di sardino E la piscata di sardino è la piscata Piscata di sardino Per la piscata è la piscata Il marco è il luogo in cui il vero pescador è che riesce a pescar. Anche, aveva il marco il luogo per pescare sulla vista. Per esempio, aveva il costo e aveva una relazione di diversi edifici con un altro, con un altro aspetto di naturalezza. Adesso, aveva il masso uso di GPS. Ora, aveva il marco, aveva una linea larga con pescador, chiamata, per andare all'interno. Anche, aveva la mano, aveva la linea in acqua. E ora, aveva il sentito che piscasse, aveva la mano e aveva la linea. E qui aveva un lavoro duro, che nella ultima década, aveva facilità del uso di venti di batteria. Anche, aveva la linea con la propria mano, per fare qualcosa di più in quanto riguarda la linea. Con la linea, aveva la pesca e pescador, aveva la linea conoscenza per andare in fondo, in modo che, aveva la linea, aveva la linea di torre, e aveva la linea. Una persona si socava per pesca con la linea. Non c'è nessuno di più che sei, ma sai che piscano. Piscano del nord è conosciuto per pesca con la linea. Avevano due forme di pesca con la linea. Per fare la linea con la linea con la linea, dove si spera di avere una scuola di pesca con la linea, e abbiamo buscato la linea con la linea con la linea. E'altra forma, va a andare in un luogo dove si spera di pesca con la linea. La maggiori via andano con due botte. Si 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 ferma la linea con una linea grande e si guarda e pesca con la linea, per poi fare la linea con la linea. Un altro pescador si ferma la linea con la linea, e assinare a notificare il capitano che ora metterà la red. Per pescare la red, sempre metterà di masco una persona. Non importa che forma di pescare ti pratica, un giorno che ti arriva senza nada. E se sai che è un ufficio, sai che per il giorno non ti ha entrato. Altro giorno, è cargata così grande, che non sai messo come per trasportare i sacchi. Conkubaibin, papiscamento, mestre di roupa e paciente. A presto. 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 A presto.